La la lafis, sorridi alla vita! La la lafis, sarà tutto più bello! La la lafis, ridi e la vita splenderà! Lafis! A lavoro! Cosa credete che faremo oggi? Spero ci raccontino qualcosa sugli animali, li adoro! Io spero ci raccontino! Una storia super divertente! O potremmo disegnare? Avete sentito? Sono i pompieri? O l'ambulanza? Nino! 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 C'è un'emergenza nella classe di risate! Cosa? Il risometro è molto basso, dobbiamo farlo risalire! Perché siete vestite così? Perché oggi parleremo... Di lavoro! Ah, ecco perché sei vestita da pompiere! Esattamente, Greta! E sapete cosa fa un pompiere? Salva i gattini da sopra gli alberi! E a parte salvare i gattini sugli alberi? Spegne il fuoco! Molto bene, Lily! I pompieri hanno il compito di spegnere gli incendi e di proteggerci! Miss Smile, tu quelle uniforme stai indossando! Io ho il compito di curare le persone, così non si ammalano! Sei una dottoressa! Sì! Molto bene, Luffy! Se lo avete indovinato! Sunny, voglio indossare anch'io un uniforme! Anch'io! Io voglio curare gli animali! Ero sicura che le uniformi vi sarebbero piaciute! Così vi abbiamo preparato... Una sorpresa! Sì! Ta-da! Wow! Wow! Quante cose! Per Nora c'è il grembiule verde con il kit di soccorso! Sono una veterinaria! Con questo kit posso aiutare tutti gli animali! Per Greta ci sono... Dei pennelli e una tavolazza piena di colori! Che bello! Sembra una pittrice! Sei! Una pittrice! Edio, edio! Qual è il mio lavoro? Adesso vediamo... Guarda qua! Un fischietto è un cappello della polizia! Un fischietto è un cappello della polizia? Non c'è altro? Un lavoro dove ci siano dei libri? Ho delle matite per scrivere? Dei libri come questo? Ma un libro non c'entra nulla con il lavoro! Ma certo che sì, Nora! Perché se hai una piuma e le pagine del libro sono bianche... Sono una scrittrice! È vero! Una scrittrice! Lili adora leggere e raccontare storie! Ma ci sono ancora il cappello e il fischietto! Sono la poliziotta delle risate! Per ogni fischio... Una risatina! Capito? Ancora un pochino per arrivare al massimo! Ci manca solo... Una risatina! Siete pronte? Cosa succede qui? Perché tutto questo rumore? È la polizia! Oh, mi scusi, signor agente! La macchina, eh? L'ho parcheggiata male! Aspetti un momentino! Ora la sposto, ok? Mallory ha scambiato Sunny per un poliziotto! Sunny! Non è stato divertente, lo sai? Quanto mi hai spaventato! Stavamo solo giocando! Povera Mallory! Sunny l'ha spaventata un sacco! Ci dispiace, Mallory! Volevamo solo giocare! Bene, bene, va bene! Però con queste cose non si scherza mai! Va bene? Va bene! Questo me lo prendo! Non si corre per i corridoi! Niente gomme da masticare! Bene! Bene! La Lucia! La La Piz fredi e la vita spenderà! La Piz!